Bentornati rossi e rose su questo gioco malato, qui Chrisly Red e incominciamo subito le missioni, subito, andiamo subito a morire Morire, ecco qua i soliti sospetti come sempre, ora io non so se rimandare loro o mandare quelli nuovi Però questi di vita, dov'è? Dov'è la vita? Non la vedo, non la vedo Eeeh, aspetta forse Oh, porca miseria, c'è, beh se è la sanità mentale, dov'è la sanità mentale? Mod, danni, eeeh, andate a cagare, andate a cagare Oh, eccolo qua, stress Sessantadue, trentotto, cinquantanove, io li mando a morire Eeeh, breve, no? Facciamo breve La ricompensa è quello che è Andiamo a fare i fornimenti Mi ricordo, otto Quattro, però quattro non ne sono abbastate Io faccio sette, sette numero Che va Proviamo un po' Vediamo Oggetto, via Prima linea Reinhardt, seconda Dismas, Redger e Nelond Nome da maschio Eeeh, cento per cento Eh, tocca fassere tutte qui, eh La missione dice cento per cento Apriamo I volumi, andiamo Vedi, lo dice pure il nostro Al Sorpresi Eh, quindi Glielo mettiamo noi Compre Espotere un trappolo Veleno, veleno Eeeh Esplosione Cos'è questa? Voglio provare Stortito E lo butta avanti Addirittura Luce abbagliante E io abbaglio un altro Mancato Ma come se fanno a modo più veloci quelli? Allora lo devo rompere Mia! Ma mia! Che li batte questi? Attenzione 3 Stordita, no! Tu salti il turno E io ti avveleno Se ci riesce Eh, infatti esiste È lui che mi avveleno a me Come faccio io? Maledetto me! Meno qua 4 Resiste pure lui Vai! Madò È chi è dis? Mettetevelo tutti Ve lo consiglio Ve lo consiglio Allora Ma sa che è vuota Ebbè Ma sa che è vuota Noi Ce ne freghiamo Perché è meglio essere vuota Che Che t'ammazza Sempre un po' di ansia Sto gioco Perché ti possono spucare Eh Una vergine di ferro Frugginite Eh Non è bene aprire Bottino Aha Onice E stemma Per potenziare Gli edifici Andiamo con lui però Un'altra volta Vai Che ci vuole a leggere La La ma Vabbè ma tanto è inutile Quanto dovremmo fare Attenzione Calice Tentatore Ah Non è tentabile Non va bene Non va bene Non va bene Lui ci ha fatto il turno Su Un dio Ok Una di loro Prima che attaccano E vai con this man Mamma mia I riflessi di Reynald Mmm Lui Oh vedi Tocca a lui E muore Tocca a lui Salta il turno E io Uccido E invece no E invece si Che combo Che combo I medanè Prendiamo i medanè Ultima No Vabbè Tutto questo per niente Va bene Va bene E se ci hanno paura Ci vediamo Il fugherello La torcia Notare la faccia Di Dismas Molto Un po' preoccupata Un cazzà Lallero Vadi vadi Ok E se ritorna Per la nostra strada Mo' siamo andati indietro Stato saccheggiato Ho molte cose vuote Ah la pala Beh A mano Tutti 18 Addirittura Porca miseria No Conta loro Non la mente Com'è Che cacchio è successo Ecco Per un anno Diventano afflitti In questa fase Non è stato un portamento Differenti Delle statistiche Cioè quindi mo' Egoista Speriamo che non fluisce Sulla missione Perché Casino Fame Allora il cibo ve lo do Ma non rompete Ricognizione E noi andiamo Per forza Oh Ah lui Ha fatto tutto lui Se non volevo Come No Che Che merda L'ha presa lui Non la dà a me Cioè Se la tiene lui Questa è diventata un pazzo Questa Un pazzo Catenate Ma dai L'ho pure cliccata Una volta Reinald Era Non mi potuto fare Vedi come cambia il gioco Uno dice Eh è facile Cacchio No Guarda Mo' Le cose Per forza Dove le deve prendere Porca miseria È come se non Clio niente Te sta bene Non so Se ce l'ho L'antidoto Ce l'ho Ce l'ho Altro Combattimento È rimasto Dismas L'unico capogruppo Tattica di Apegniamo uno Ammazziamo tutti E Madre di Urrutto della notte Mancato Però ha i riflessi pronti ancora Il Reinald Eh però Chi te l'ha detto Di fare il reinald Ma fa tutto lui Va bene Medico della peste Vai Oh vai Oh il bottino a me Maledetto Entriamo Arca Sorpresi Ma come si fanno A sorprendere i dischi Vai Ma poi è una cifra Quell'attacco Eppure lui I dischi avvenenati Mai sentiti Però Stordito Vai così E con te Uccidiamo questo Egoista Infame Oh Come è Hai si chiara Un dardo Il capice è diventato Eh però basta Non mi fa diventato pazzo Lui eh Ci manca poco Ci manca poco Ma è pure lui Porca miseria 90 Ma per un punto Ehm E lì Mi dobbia partire A me Ma dovevo curare Vai ok Vai così Bene bene così Andiamo La roba a me Prima di essere La roba a me La roba a me La missione Comunità Io continuo Dottore Rifiuto l'offerta E vado avanti Ma così Dobbiamo esplorare L'ultimo I ragazzi Non sono contenti Vai tu Bravo Fermo Facciamo fa Uno che ha la sanità A posto E' unice Mangiate figlioli E non c'è niente E noi siamo felici E ci andiamo Ok Adesso dobbiamo per forza Mandare In missione Qualcun altro Ok Eh qua io ho paura Perché Uno diceva Queste sono cose buone Porcavolo Ecco Meno cura da stress ricevuta Tutte cose buone Vai Paranormal Mi hanno ossessionato Al paranormale Posso Questo Grande cose buone Va bene Sto gioco un po' Strano Sì sì Le memorie Di tono No Ok abbiamo spruccato due cose Il carro Il carro Ok Mettiamo lui Vediamo che succede Ah vedi Dei spruccare altre abilità Fabbro Invece Per potenziare 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 Però richiede L'armagliolo Livello 1 E noi Li odiamo Oh Che si può fare Ok Vediamo la carovalla E ci servono Eroi Senar Ponte Questo Mi Mi garba This man understands That adversity And existence Are one and the same Eroi Eroi Dobbiamo provare Tutti Eroi 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 Però vorrei Di più Aumenta la dimensione Della tua lista Tre Maledetto Maledetto Ehm Perché c'è un problema poi Chi cura? Vabbè Andiamo A curare Qui Proprio vai Qua pure Dobbiamo andare A curare Un po' di gente Vediamo Devi a curare Però dovrei toglie Dov'è che si toglieva? Qui Brutti Tratti Vabbè Si cavoli Partiamo Un'altra missione Breve 3000 Di soldi Due E la fiala Ah Buono O ci rimandiamo Lei Che c'ha Che c'ha Che c'ha Che c'ha Tanta Di stress E si rischia Andiamo Andiamo Lui In avanti Al posto Di Reinald Eh Il posto di Dismas È un casino Questa che fa Sarà degna Di prendere Il posto di Dismas Mettiamo la bionda Vai Dietro Lui Lui Sto Si Anzi Volendo Si va Mette qua E dietro Mettiamo Lui Mettiamo Anzerai A posto Andiamo Nuova squadra Nuova formazione Però nessun titolo C'era Invece I soliti sospetti C'era niente Andiamo Che ce la mandino Buona La nuova formazione 100% Vediamo se Senna Ponte Degno Di essere Leader Proviso Così Sto tornando Dietro Wealth Beyond Measure Award To the brave And the fool Hardy Alike Come c'è Due Surprese Dai Vediamo Subito Come partiamo Che sa che c'è Attacco Mischia Lignani scintillanti Ah tipo Dismos Che sa Guardi E prendi Andiamo Ah vedi Buon sostituto Ascoltamento Ne può farsi due Ascoltamento Ah in due Due ne può prendere Madonna E che Ah vedi Questo è un po' particolare Marchio Marchio Da Mi toglie Che fa Più danni Questo lo Trascina In avanti Questo lo stordisce Per ora Noi dobbiamo Uccidere Mancato E che Anzerai Ma che conviene Ma che conviene Stordiamo L'arcer Resiste Maledetto Eh la pista Che Mamma mia Proprio così In cassa Quelle mani Per dire Colpisci Non ci arriva Fino Alla giù Questa Attacco Eia Oh questa sta crepando Eh Corriamo Piano piano Ok Maledetto Mamma mia Oh questa è una schiappa Noi dobbiamo Prendere Che Chiamano Erpesca Ok Andiamo avanti Andiamo avanti Che c'è una sala Del tesoro Lì La vedo La vedo La vedo La vedo La vedo E chi ci sta Eh lo sapevo io Guarda quanti sono Tu la tetta Ma io No Beh Tocca sta attento La sessanta Che fa male Il graffio degli antichi Addirittura Resiste Sanguinamento Tutto lui c'ha Ma se incavola Mmm Ah lei 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 dà lo stress Devi stare fermi Uccidi Ah Ho preso sta Ah io Eh sa Io ho ucciso il fratello Vedi Credito Ah adesso Lo credito Ah da Meno sanità Ok Ok C'è il tentatore È sempre quello che dice No Devo curare Curare A me Critico Madonna E chi è Sei una po' E chi è Ok Con lui Non posso prendere niente Cura 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 Ma non era Una specie Ditta Addirittura Maledetta Mi brutta il vino Adesso Muori Ok Io devo curare Tutti Cura di poco Però Cura tutti Ok Qua dobbiamo far spazio E mandarlo avanti Sto maledetto Dai Mado 14 14 Dicito Ho la chiave Buono Buono Abbiamo fatto bene Però mi ho paura Aprire Ok Benissimo 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 Rimettiamo Ai loro posti Eh scusa Ci spostano i personaggi Qui Andiamo 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 Ok Ok Lo z'è ne ha abbandonato E tranquillo La trappola Amo che c'è la disattiva Scommetto lei Lei la vedo col cappello Tutto fare Dobbiamo tenere alto E lo teniamo alto Mazzì Mettiamo alto Giù Altra torcia Molto bene Eh però Rimettetemi la mappa Lo zaino Stranamente Niente troppo C'è un combattimento Adesso Ok Stessa età Vai Madonna Così One shotato Grosse errore Eh Un punto in più Per Harriet Sto dietro Con lo scudo Senza scudo Ma va di baionetta E io ti Bacchino Cos'è che tu Già hai fatto Il tuo turno Io me ti ammazzo Eh no Niente Niente Vai di Piccone Critico No Avrà parato Eh è mancato pure Questo Il reking Non ci vede Se non Eh Ci vede A modo suo Resistenza Vai Vai Che è Imbruttito Quella spada rotta In giro Va Prendiamo tutto Pieno qui Boia Campesimo Stressante Schiveto Grazie Di Antiqui Come sempre Io Resisto Però Sanguinamento Non resistiamo Ok Io me ne ammazzo C'è due Mazza Mi sono messi d'accordo Dai eh Tardo Ahia Sai L'ho presa bene Ahia Meglio 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 Eh non mi ricordo Non mi ricordo Devastating Blue io eh devo curare purita tu fate paura a questa persona non so neanche ok ho pulito e ne ho acceso uno puriamo una persona precisione e potere oh dì appunto facciamole bene se battute però vai togliamo la sporcizia vai il vichingo ok non mi spazzo eh male 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 così io continuo per un po' vediamo un po' cosa ci da vuoto vuoto eh no vabbè sto fermo qui questa squadra mi fermo qui vado su 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 certo la proposta del dottore inibiti ok ok guarda quanti a me questi mi servono ok qui eh a tutti qua non si scappa affascinato dai cadavri cazzo attenti non lì sta se la luce è inferiore 26 eh io non la terrò mai a 26 questa è debole 20 danni da stress se la luce è superiore vedi questo oggi è buono dove nel corridore puramente si è accampato addirittura oh cazzo mira intanto buono dai come si possono togliere però oh questo si è ripreso oh buono buono ah ah oggetti so poi migliorabilità campanella a casa in wild places she is a stalwart survivor e questo accampamento è una cosa più avanti sanatorio oh e qua che si curano i tratti negativi e le malattie vedi bene 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 andiamo alla carovana dobbiamo potenziare il questo così mi posso prendere uno in più e proviamo boys le vansque che è una nuova benone benone vabbè possiamo mi fai parlare possiamo concludere qui il video fatemi sapere se il video vi è piaciuto con un like o con un commento qui sotto iscrivetevi al canale e noi ci becchiamo al prossimo video bella rossie ciao ciao